Lezione 1. Tecniche di negoziazione efficace. Ciao Anna, mi sto preparando per una trattativa importante. Hai qualche consiglio su come negoziare in modo efficace? Ciao John. La negoziazione può essere impegnativa, ma con le tecniche giuste può avere successo. Innanzitutto, fai le tue ricerche e raccogli tutte le informazioni necessarie. Questo è un buon punto. Mi assicurerò di raccogliere tutti i fatti e le cifre prima di iniziare la negoziazione. Cos'altro devo tenere a mente? È essenziale comprendere il punto di vista dell'altra parte. Mettiti nei loro panni e cerca di anticipare le loro esigenze e preoccupazioni. Comprendere il loro punto di vista ha senso. In questo modo, posso trovare un terreno comune e proporre soluzioni a vantaggio di entrambe le parti. Come devo iniziare la negoziazione? Inizia dichiarando i tuoi obiettivi in modo chiaro e conciso. Siate fiduciosi e assertivi, ma anche aperti al compromesso e alla ricerca di accordi reciproci. Lo terrò a mente. Iniziare con obiettivi chiari aiuterà a dare il tono alla negoziazione. Punterò a un risultato vantaggioso per tutti. Qualche tecnica specifica che dovrei usare? L'ascolto attivo è fondamentale. Presta attenzione a ciò che dice l'altra parte e fai domande pertinenti. Ciò dimostrerà che apprezzi il loro contributo e che sei disposto a trovare un terreno comune. L'ascolto attivo è un'abilità che devo migliorare. Mi sforzerò di ascoltare attentamente e porre domande ponderate. Come posso garantire un'atmosfera positiva durante la negoziazione? Mantieni un comportamento professionale e rispettoso durante tutta la negoziazione. Evita di metterti sulla difensiva o conflittuale. Concentrati sui problemi in questione, non sugli attacchi personali. Mantenere un atteggiamento professionale e rispettoso è importante. Rimarrò calmo e composto, anche se le cose si fanno difficili. Come posso gestire le obiezioni o i disaccordi? Affronta le obiezioni fornendo prove e ragionamenti logici. Mantieni la calma e presenta i tuoi punti in modo chiaro e persuasivo. Preparati a offrire alternative. Gestire le obiezioni con prove e ragionamenti logici ha senso. Sarò preparato con un elenco di fatti a sostegno delle mie argomentazioni. Come posso chiudere la negoziazione con una nota positiva? Riassumi i punti concordati e assicurati che ci sia una chiara comprensione dei passaggi successivi. Esprimi gratitudine per l'opportunità di negoziare e mantenere un tono professionale. Riassumere i punti chiave ed esprimere gratitudine sono ottimi modi per concludere positivamente la negoziazione. Mi assicurerò di informarmi su di essi durante la negoziazione. Qualche consiglio finale? Ricorda di rimanere flessibile e adattabile durante il processo di negoziazione. Siate aperti a soluzioni creative e disposti a trovare un terreno comune. Buona fortuna! Grazie apprezzo la tua guida. Applicherò queste tecniche e affronterò la negoziazione con sicurezza. Auguriamo a un esito positivo. Lezione 2. Superare l'insicurezza. Ciao Anna. A volte dubito delle mie capacità. Come posso superare i dubbi su me stesso e credere di più in me stesso? Ciao John. L'insicurezza è comune, ma ricorda che tutti hanno momenti di incertezza. È importante riconoscere la situazione di un'esito. Conoscere le proprie capacità e sfidare i pensieri negativi. È rassicurante sentirlo. Cercherò di ricordare a me stesso i miei punti di forza e i miei successi quando l'insicurezza si insinua. Come posso smettere di paragonarmi agli altri? Concentrati sui tuoi progressi e sul tuo viaggio. Il confronto può essere dannoso per l'autostima. Celebrate i vostri traguardi e stabilite obiettivi realistici per la crescita personale. Questo è un ottimo consiglio. Sposterò la mia attenzione sulla mia crescita e sarò orgoglioso dei miei risultati, non importa quanto piccoli siano. Come posso mettere a tacere il mio critico interiore? Sfida il dialogo interiore negativo mettendone in dubbio la validità. Sostituisci i pensieri autocritici con affermazioni positive e ricordi dei successi passati. Farò uno sforzo consapevole per mettere in discussione i miei pensieri negativi e sostituirli con quelli positivi. È tempo di essere più gentile con me stesso. Come posso acquisire fiducia in situazioni non familiari? Preparati accuratamente e acquisisci le competenze e le conoscenze necessarie. Esercitati in un ambiente sicuro e ricorda a te stesso che tutti iniziano come principianti. Preparazione e pratica hanno senso. Mi assicurerò di essere ben equipaggiato per situazioni non familiari e ricorderò che essere un principiante va bene. Come posso chiedere aiuto in caso di dubbi su me stesso? Rivolgiti ad amici, familiari o mentori fidati che possono fornire incoraggiamento e guida. Condividere le tue preoccupazioni può aiutare ad alleviare i dubbi su te stesso. Cercare il sostegno degli altri è importante. Mi ricorderò di condividere le mie difficoltà e di chiedere consiglio a chi crede in me. Come posso accettare il fallimento come un'opportunità di apprendimento? Cambia prospettiva e considera il fallimento come un trampolino di lancio verso la crescita. Analizza cosa è andato storto, impara da esso e usa queste conoscenze per migliorare. Cambierò mentalità e vedrò il fallimento come una preziosa esperienza di apprendimento piuttosto che un riflesso delle mie capacità. È tempo di abbracciare la crescita. Come posso mantenere una mentalità positiva? Circondati di positività. Pratica la gratitudine, intraprendi attività che ti piacciono e concentrati sulla cura di te stesso. Coltiva una mentalità basata sulla fiducia in te stesso e sulla resilienza. Circondarmi di positività e praticare la gratitudine sono ottimi modi per mantenere una mentalità positiva. Darò priorità alla cura di sé e alla fiducia in se stessi. Come posso rimanere motivato quando persistono dubbi su me stesso? Stabilisci obiettivi realistici e suddividili in fasi gestibili. Celebra le piccole vittorie lungo il percorso e ricorda a te stesso i tuoi progressi. Suddividere gli obiettivi in fasi più piccole e celebrare le vittorie sembra una buona strategia. Rimarrò motivato, riconoscendo i miei progressi. Qualche ultimo consiglio per superare i dubbi su se stessi? Ricorda che l'insicurezza è una parte normale del viaggio. Sii paziente con te stesso, pratica l'autocompassione e credi nel tuo potenziale. Hai questo! Lezione 3. Padroneggiare la gestione del tempo Ciao Anna, spesso faccio fatica a gestire il mio tempo in modo efficace. Hai qualche consiglio su come posso migliorare le mie capacità di gestione del tempo? Ciao John! La gestione del tempo può essere difficile, ma ci sono strategie per aiutare. Innanzitutto, dai la priorità alle tue attività in base all'importanza e alle scadenze. Dare priorità alle attività sembra un buon punto di partenza. Farò un elenco e mi concentrerò su quelle più urgenti e importanti. Come posso evitare la procrastinazione? Suddividere le attività in parti più piccole e fissare scadenze mi aiuterà a evitare la procrastinazione. Proverò la tecnica del pomodoro per rimanere concentrato. Che mi dici delle distrazioni? Riduce al minimo le distrazioni creando un ambiente di lavoro favorevole. Disattiva le notifiche, limita l'uso dei social media e comunica i limiti con gli altri. Creare un ambiente di lavoro privo di distrazioni è fondamentale. Disattiverò le notifiche e comunicherò i miei limiti per ridurre al minimo le interruzioni. Come posso stimare con precisione la durata delle attività? Tieni traccia del tempo dedicato alle attività per comprendere meglio quanto tempo impiegano. Usa strumenti come timer o app per il monitoraggio del tempo per migliorare le tue capacità di stima. Il monitoraggio del mio tempo mi aiuterà a stimare la durata delle attività in modo più accurato. Utilizzerò timer o app per monitorare la durata di ciascuna attività. Come posso rimanere organizzato? Usa un'agenda o un calendario digitale per pianificare e tenere traccia dei tuoi impegni. Suddividi i progetti in traguardi più piccoli e imposta promemoria per scadenze importanti. Un'agenda o un calendario digitale mi aiuterà a rimanere organizzato e a tenere traccia dei miei impegni. Suddividerò i progetti in traguardi e imposterò promemoria. Come posso gestire le interruzioni o le attività impreviste? Consenti una certa flessibilità nella tua pianificazione per far fronte a attività impreviste. Valuta la loro urgenza e importanza e riprogramma o delega, se possibile. Consentire la flessibilità e valutare l'urgenza mi aiuterà a gestire meglio le interruzioni. Riprogrammerò o delegerò le attività se necessario. Come posso migliorare la mia produttività? Dai priorità alla cura di te stesso e fai delle pause regolari. Pratica la consapevolezza e concentrati su un compito alla volta. Delega attività che possono essere svolte da altri. Dare priorità alla cura di sé e alle pause sono essenziali per la produttività. Praticherò la consapevolezza e delegerò i compiti quando appropriato. Come posso imparare dagli errori di gestione del tempo? Rifletti sugli errori del passato e identifica le aree di miglioramento. Adatta le tue strategie di conseguenza e impara dalle tue esperienze per migliorare la gestione del tempo futuro. Riflettere sugli errori del passato e modificare le strategie mi aiuterà a migliorare le mie capacità di gestione del tempo. Imparerò dalle mie esperienze e apporterò le modifiche necessarie. Qualche consiglio finale per una gestione efficace del tempo? Ricorda di essere realistico con le tue aspettative ed evita di impegnarti troppo. Pratica l'autodisciplina e sii coerente con le tue strategie di gestione del tempo. Hai questo. Grazie apprezzo la tua guida. Implementerò questi suggerimenti e lavorerò per migliorare le mie capacità di gestione del tempo. Ha una vita più produttiva e organizzata. Lezione 4. Esplorare la natura Ciao Anna, hai sentito parlare dell'Old Swan & Minster Mill? È un hotel molto apprezzato circondato da una natura meravigliosa. Ciao John. Sì, ne ho sentito parlare. La location sembra incredibile. Ho sempre desiderato soggiornare in un hotel che offra una splendida cornice naturale. L'Old Swan & Minster Mill è perfetto per gli amanti della natura. È immerso in paesaggi pittoreschi con fiumi, giardini e sentieri pedonali. Sembra delizioso. Posso immaginare di fare lunghe passeggiate lungo il fiume e di godermi la tranquillità dei giardini. Quali altre attività si possono fare lì? Oltre ai sentieri pedonali, offrono attività come la pesca, il ciclismo e persino il croquet. È un ottimo posto per dedicarsi a attività ricreative all'aperto. La pesca e il ciclismo sembrano attività divertenti. È una grande opportunità per entrare in contatto con la natura e provare qualcosa di nuovo. Ci sono attrazioni nelle vicinanze? Assolutamente. L'hotel è situato vicino ai Cotswolds, una zona nota per i suoi incantevoli villaggi e la pittoresca campagna. Esplorare i Cotswolds è un must. Esplorare i Cotswolds sembra affascinante. Ho visto le foto dei bellissimi cottage in pietra e delle dolci colline. Deve essere un'esperienza unica. Lo è davvero. Puoi visitare villaggi come Burford e Burton on the Water, noti per il loro fascino antico e la tradizionale architettura inglese. Ho sentito parlare di Burford e Burton on the Water. Sembrano usciti da un libro di fiabe. Mi piacerebbe passeggiare per quelle strade pittoresche. È come tornare indietro nel tempo. Le Cotswolds offrono anche opportunità per passeggiate a cavallo, picnic e visite a siti storici. Passeggiate a cavallo e picnic in un ambiente così pittoresco sarebbero incredibili. Posso immaginare di trascorrere una piacevole giornata circondato da bellezze naturali. Assolutamente. E dopo una giornata trascorsa a esplorare, potrete rilassarvi nella spa dell'hotel o gustare un delizioso pasto nel loro ristorante, che offre ingredienti di provenienza locale. Sembra il modo perfetto per rilassarsi dopo una giornata di avventure. Una seduta alla spa e un delizioso pasto sarebbero la ciliegina sulla torta di una giornata meravigliosa. Infatti, l'Old Swan & Minster Mill offre una miscela unica di natura, storia e relax. È una destinazione ideale per una vacanza rigenerante. Sembra decisamente un posto che mi piacerebbe visitare. È difficile resistere alla combinazione di natura meravigliosa, villaggi incantevoli e servizi di lusso. È una gemma nascosta che offre un'esperienza indimenticabile. Che tu stia cercando tranquillità o avventure all'aria aperta, l'Old Swan & Minster Mill ha tutto. Grazie per aver condiviso questa gemma nascosta. Ora è nella mia lista di luoghi da visitare. Non vedo l'ora di immergermi nella natura ed esplorare i Cotswolds. Siete i benvenuti. Sono sicuro che ti divertirai moltissimo lì. Goditi la bellezza della natura e crea ricordi indelebili. Buon viaggio! Lezione 5. Conversazioni sul caffè in un accogliente caffè Ciao Anna. Questo caffè ha un ambiente così accogliente. Ti piace il caffè qui? Ciao John. L'atmosfera è incantevole. Non ho ancora provato il caffè. Hai avuto modo di assaggiarlo? Sì, ce l'ho. Il caffè qui è eccezionale. L'aroma e il sapore sono davvero deliziosi. Sembra allettante. Sono sempre pronto per una buona tazza di caffè. Cosa mi consigliate? Il cappuccino è fantastico. Ha il perfetto equilibrio tra espresso ricco e schiuma di latte vellutata. Proverò sicuramente il cappuccino. Offrono altre bevande speciali? Assolutamente. Hanno una vasta selezione di bevande, tra cui latte macchiato, macchiati e persino alcune creazioni stagionali uniche. Apprezzo la varietà. È bello avere opzioni adatte a diverse preferenze. Ci sono dolci o dolcetti d'autore? Sì, hanno un'esposizione di dolci, torte e biscotti appena sfornati. I croissant al cioccolato sono semplicemente divini. Il mio punto debole sono i croissant al cioccolato. Non posso resistergli. Ne concederò sicuramente uno con il mio caffè. È una combinazione perfetta. Il croissant caldo e friabile abbinato a una tazza di caffè caldo è pura felicità. In effetti, sono i piccoli piaceri della vita. Oltre al caffè e ai dolci, c'è altro che spicca in questo caffè? Le accoglienti aree salotto e la musica di sottofondo morbida creano un'atmosfera rilassante. È un ottimo posto per rilassarsi e godersi una conversazione. Apprezzo una caffetteria con un'atmosfera confortevole. È bello avere un posto dove puoi chattare e connetterti con gli altri. Assolutamente. È un luogo di ritrovo per amici, colleghi e persino visitatori solitari in cerca di un momento di pace. Meraviglioso. Mi piace incontrare nuove persone e intrattenere conversazioni. È un ottimo modo per imparare e ampliare i propri orizzonti. Non potrei essere più d'accordo. Le conversazioni davanti a una tazza di caffè possono essere illuminanti e fornire prospettive uniche. È incredibile come una semplice bevanda possa unire le persone e innescare discussioni interessanti. Sicuramente. Il caffè ha un modo per creare connessioni e promuovere un senso di comunità. Non vedo l'ora di provare quel senso di comunità e di godermi una deliziosa tazza di caffè qui. Sono sicuro che ti divertirai moltissimo. Questo caffè è un modo per far sentire tutti benvenuti e come a casa. Grazie per avermi fatto conoscere questo posto incantevole. Sono entusiasta di intraprendere questa avventura del caffè insieme. Siete i benvenuti. Assaporiamo ogni sorso, concediamoci deliziose prelibatezze e creiamo ricordi indelebili in questo accogliente caffè. Lezione 6. La conservazione della natura e il suo significato. Ciao Anna. Hai mai imparato a conoscere la conservazione della natura? È importante proteggere il nostro ambiente. Ciao John. Sì, la conservazione è fondamentale per preservare la bellezza e l'equilibrio della natura. Ce l'hanno insegnato a scuola. È fantastico. È importante che le giovani generazioni comprendano l'importanza di proteggere le nostre risorse naturali. Assolutamente. Hanno sottolineato l'importanza delle pratiche sostenibili e dell'impatto delle attività umane sull'ambiente. È meraviglioso da sentire. È fondamentale che tutti siano consapevoli del proprio ruolo nella conservazione del nostro pianeta. Hanno menzionato azioni specifiche che possiamo intraprendere? Sì, hanno discusso vari modi per contribuire agli sforzi di conservazione. Uno di questi è ridurre la nostra impronta di carbonio utilizzando fonti di energia rinnovabili. Questo è un grande passo verso la sostenibilità. È importante dare priorità alle alternative energetiche pulite per ridurre al minimo il nostro impatto sull'ambiente. Hanno anche menzionato l'importanza del riciclaggio e della riduzione al minimo degli sprechi. Piccoli cambiamenti nelle nostre abitudini quotidiane possono fare una grande differenza. Assolutamente. Il riciclaggio e la riduzione dei rifiuti sono modi semplici ma efficaci per conservare le risorse e ridurre l'inquinamento. Questo è vero la biodiversità è essenziale per la salute del nostro pianeta e contribuisce all'equilibrio generale degli ecosistemi. Hanno anche menzionato l'importanza di sensibilizzare ed educare gli altri sulla conservazione. Diffondere la conoscenza può ispirare più persone ad agire. Questo è un aspetto cruciale. Educando e coinvolgendo gli altri, possiamo creare uno sforzo collettivo verso un futuro sostenibile. Hanno sottolineato che la conservazione è una responsabilità condivisa. Richiede la partecipazione e l'impegno di individui, comunità e governi. Questo è un punto prezioso. La collaborazione è fondamentale quando si tratta di implementare strategie di conservazione efficaci su larga scala. Hanno anche menzionato l'impatto dei cambiamenti climatici sul nostro ambiente e la necessità di adattare e mitigarne gli effetti. Il cambiamento climatico è davvero una questione urgente. È importante dare priorità alle pratiche sostenibili e lavorare per ridurre le emissioni di gas serra. Ci hanno incoraggiato a partecipare a progetti e organizzazioni di conservazione locali per avere un impatto tangibile nelle nostre comunità. È fantastico. La partecipazione a iniziative di conservazione ci consente di contribuire attivamente alla protezione del nostro ambiente naturale. Questo è un messaggio potente. È stimolante sapere che tutti abbiamo la capacità di essere custodi dell'ambiente e proteggerlo per le generazioni future. Assolutamente. Prendiamo a cuore queste lezioni e facciamo la nostra parte per preservare e conservare la bellezza della natura. Non potrei essere più d'accordo. Insieme, possiamo avere un impatto significativo e creare un pianeta più sostenibile e prospero. Intraprendiamo questo viaggio insieme e ispiriamo gli altri a unirsi a noi nella missione della conservazione. Infatti, diventiamo il cambiamento che desideriamo vedere nel mondo e lavoriamo per un futuro più luminoso e più verde. Lezione 7. Abbracciare il comfort e la presentabilità Ciao Anna. Volevo parlare di come le apparenze non dovrebbero definire una persona. È importante essere comodi e presentabili a modo nostro. Ciao John. Sono completamente d'accordo. È essenziale dare la priorità al nostro comfort e allo stesso tempo esprimerci in modo autentico. Assolutamente. Dovremmo sentirci sicuri e a nostro agio nella nostra pelle, indipendentemente dalle aspettative o dai giudizi della società. Questo è vero il nostro valore va oltre le apparenze fisiche. Riguarda il nostro carattere, i nostri talenti e il modo in cui trattiamo gli altri. Hai assolutamente ragione. Sono le nostre azioni e qualità che ci definiscono veramente, non solo il nostro aspetto esteriore. È importante vestirsi in un modo che ci faccia sentire a nostro agio e rifletta il nostro stile personale. La fiducia viene da dentro. Precisamente. Quando ci vestiamo in un modo che si allinea con il nostro io autentico, trasudiamo fiducia e facciamo un'impressione positiva. E non si tratta solo di abbigliamento. Essere presentabili significa anche prendersi cura della propria igiene e cura personale. Questo è un aspetto importante. Il mantenimento di buone abitudini igieniche e di cura dimostra rispetto per noi stessi e per gli altri. Assolutamente. Si tratta di presentare il meglio di noi stessi rimanendo fedeli a ciò che siamo. Dovremmo sentirci a nostro agio e sicuri della nostra pelle. Ben detto. Si tratta di trovare un equilibrio tra sentirsi a proprio agio e sforzarsi di presentarsi bene. Ed è importante ricordare che la definizione di comfort e presentabilità di ognuno può variare. È una scelta personale. Esattamente. Ciò che conta di più è come ci sentiamo per noi stessi. Si tratta di abbracciare la nostra individualità ed essere fedeli a ciò che siamo. Gli standard sociali di bellezza o moda non dovrebbero dettare la nostra autostima. Dovremmo definire i nostri standard e abbracciare le nostre qualità uniche. Perfetto. Dovremmo celebrare la nostra individualità e riconoscere che la vera bellezza viene da dentro. Assolutamente. Quando ci concentriamo sullo sviluppo del nostro carattere e sul trattamento degli altri con gentilezza, è allora che risplende la nostra vera bellezza. Ben detto. Ricordiamoci di sentirci a nostro agio nella nostra pelle, di esprimerci in modo autentico e di definire il nostro valore oltre le apparenze. Infatti. Abbracciamo la nostra unicità, diamo priorità al nostro comfort e irradiamo fiducia interiore. Complimenti per questo. Abbracciare il nostro vero io, sentirci a nostro agio e presentabili e ispirare gli altri a fare lo stesso. Lezione 8. Avvio di una routine di allenamento Ciao Anna. Stavo pensando di iniziare una routine di allenamento. Voglio iniziare con tre giorni alla settimana e aumentarlo gradualmente fino a cinque. Cosa ne pensi? Ciao John. Sembra un ottimo piano. Iniziare gradualmente e aumentare progressivamente la frequenza degli allenamenti è un approccio intelligente. Sono d'accordo è importante ascoltare il nostro corpo e non sforzarci troppo all'inizio. La coerenza è fondamentale. Assolutamente. Iniziare con tre giorni alla settimana consente al corpo di adattarsi e riprendersi, pur facendo progressi verso i propri obiettivi di fitness. Questo è il mio obiettivo. Voglio migliorare la mia forma fisica generale e aumentare forza e resistenza nel tempo. È fantastico. Ricordati di includere nella tua routine un mix di esercizi cardiovascolari, allenamento della forza ed esercizi di flessibilità. Buon punto. La varietà è importante per assicurarci di lavorare su diversi gruppi muscolari e mantenere la forma fisica e la flessibilità complessive. È anche una buona idea fissare obiettivi specifici per ogni sessione di allenamento. Che si tratti di aumentare la durata o l'intensità, avere un obiettivo ti mantiene motivato. Lo terrò a mente. Stabilire obiettivi misurabili mi aiuterà a tenere traccia dei miei progressi e a celebrare i miei traguardi lungo il percorso. E non dimenticare l'importanza di una corretta alimentazione e idratazione. Rifornire il corpo con cibi nutrienti e rimanere idratati favorisce i tuoi allenamenti. Assolutamente. Una dieta equilibrata e un'adeguata idratazione mi forniranno l'energia necessaria per dare il meglio durante gli allenamenti. È anche essenziale ascoltare il proprio corpo e concedersi giorni di riposo. Il riposo e il recupero sono importanti tanto quanto gli allenamenti stessi. Hai ragione. Il riposo permette ai nostri muscoli di ripararsi e rafforzarsi. È una parte cruciale del percorso di fitness. Man mano che progredisci, non aver paura di metterti alla prova e provare nuovi esercizi o attività. Mantieni i tuoi allenamenti coinvolgenti e divertenti. Questo è un ottimo consiglio. Provare cose nuove mantiene eccitante la routine di allenamento e aiuta a prevenire la noia o gli altipiani. E ricorda, la coerenza è fondamentale. Anche nei giorni in cui non ti senti motivato, presentarsi e fare qualcosa è meglio che non fare niente. Lo terrò a mente. La coerenza è ciò che alla fine porterà a risultati a lungo termine e a uno stile di vita più sano. Assolutamente. Sono entusiasta che tu intraprenda questo viaggio nel fitness. Ricordati di goderti il processo e di celebrare ogni traguardo. Grazie il tuo supporto significa molto. Non vedo l'ora di diventare più forte e più in forma ad ogni allenamento. Hai questo. Sarò qui a fare il tifo per te in ogni fase del percorso. Ecco un percorso di fitness di successo e appagante. Grazie il tuo incoraggiamento è motivante. Ecco una versione più sana, più forte e più energica di me stesso. Lezione 9. Vaccinazioni per la tua destinazione. Ciao Anna. Sto programmando un viaggio verso una nuova destinazione. Voglio assicurarmi di conoscere i requisiti di viaggio e le eventuali vaccinazioni necessarie. Qualche consiglio? Ciao John. È eccitante. È sempre importante ricercare i requisiti specifici della destinazione prima di partire. Assolutamente. Non voglio sorprese o complicazioni durante il mio viaggio. Essere preparati è fondamentale. Inizia controllando i siti web ufficiali del governo o contattando l'ambasciata del paese che stai visitando. Forniscono informazioni aggiornate sui requisiti di ingresso. Buona idea. Mi assicurerò di controllare queste fonti per raccogliere informazioni accurate e affidabili. Inoltre, scopri se ci sono vaccinazioni specifiche consigliate o richieste per i viaggiatori che si recano in quella destinazione. Questo è fondamentale. Voglio dare priorità alla mia salute e sicurezza mentre esploro nuovi posti. Consulta il tuo medico o una clinica sanitaria di viaggio per assicurarti di essere aggiornato sulle vaccinazioni di routine e per ottenere eventuali vaccinazioni specifiche relative ai viaggi. Lo farò sicuramente. È importante prendere le misure necessarie per proteggere me stesso e gli altri. Inoltre, considera l'acquisto di un'assicurazione di viaggio che copra le spese mediche. È meglio essere preparati per qualsiasi situazione imprevista. Hai ragione. L'assicurazione di viaggio offre tranquillità e mi garantisce assistenza in caso di emergenze mediche. Non dimenticare di mettere in valigia un piccolo kit di pronto soccorso con elementi essenziali come cerotti, antidolorifici e tutti i farmaci necessari. È un buon promemoria. È sempre consigliabile avere forniture mediche di base a portata di mano, per ogni evenienza. Un altro aspetto importante è quello di familiarizzare con le usanze e le norme culturali locali per garantire un'esperienza di viaggio rispettosa e positiva. Assolutamente. Il rispetto della cultura e delle tradizioni locali è essenziale per un viaggio significativo e piacevole. Infine, tieniti informato su eventuali avvisi o avvisi di viaggio per la tua destinazione. È importante dare la priorità alla sicurezza in ogni momento. Lo terrò a mente. La sicurezza è la mia massima priorità e mi assicurerò di rimanere aggiornato su eventuali avvisi di viaggio. Ottimo! Con un'attenta pianificazione e preparazione, il tuo viaggio sarà agevole e memorabile. Goditi la tua avventura di viaggio. Grazie apprezzo la tua guida e i tuoi auguri. Sono entusiasta di intraprendere questo nuovo viaggio con fiducia e conoscenza. Lezione 10. Caccia in hotel Ciao Anna. Sto programmando il mio viaggio e ho bisogno di trovare un hotel. Sto cercando qualcosa a un prezzo moderato. Qualche suggerimento su come risparmiare per l'hotel? Ciao John. Trovare un hotel a prezzi ragionevoli è un modo intelligente per gestire le spese di viaggio. Esploriamo alcune opzioni. Grazie. Voglio trovare un equilibrio tra comfort e convenienza. Qualche consiglio su dove iniziare la mia ricerca? Inizia navigando su siti web o app di viaggi che offrono offerte e sconti sugli hotel. Spesso dispongono di filtri per aiutarti a trovare alloggi che rientrino nel tuo budget. È un'ottima idea. Mi assicurerò di utilizzare questi filtri per restringere le mie opzioni. Un'altra opzione è prendere in considerazione la possibilità di soggiornare in zone meno turistiche. Gli hotel situati lontano dalle famose attrazioni tendono ad essere più economici. Buon punto. Esplorare aree meno affollate può anche fornire un'esperienza più autentica della destinazione. Non dimenticare di leggere le recensioni e controllare le valutazioni degli hotel prima di effettuare una prenotazione. Questo ti darà un'idea della qualità e del servizio che offrono. Assolutamente. Le recensioni possono fornire informazioni preziose e aiutarmi a prendere una decisione informata. Prendi in considerazione la possibilità di prenotare direttamente con il sito web dell'hotel o di chiamarlo direttamente. A volte, hanno promozioni o sconti speciali non disponibili altrove. Lo terrò a mente. Le prenotazioni dirette potrebbero farmi risparmiare qualche soldo extra e offrire maggiore flessibilità. Se sei aperto, puoi anche esplorare opzioni di alloggio alternative come pensioni, ostelli o case vacanze. Spesso offrono scelte economiche. Questo è un ottimo suggerimento. Esaminerò anche queste opzioni per vedere se soddisfano le mie preferenze e il mio budget. Infine, sii flessibile con le date di viaggio. I prezzi possono variare in base al periodo dell'anno o al giorno della settimana. Prendi in considerazione l'idea di viaggiare durante la bassa stagione per ottenere offerte migliori. Lo prenderò sicuramente in considerazione. Essere flessibili con le mie date di viaggio potrebbe aiutarmi a trovare tariffe più convenienti. Ricordati di tenere traccia del budget per l'alloggio e di allocare i fondi di conseguenza. È importante rispettare le spese pianificate. Hai ragione. Il budget per l'alloggio mi aiuterà a gestire efficacemente le mie spese complessive di viaggio. Lezione 11. Tecniche di rilassamento per una buona notte di sonno. Ciao Anna. Ho avuto una giornata stressante oggi. Oh, peccato. Hai fatto qualcosa per rilassarti prima di andare a letto? Ciao John. Mi dispiace sentirlo. Rilassarsi prima di andare a letto è essenziale per una buona notte di sonno. Esploriamo alcune tecniche. Grazie. Mi servirebbe davvero un po' di relax per distendermi e ricaricarmi. Cosa suggerisci? Prendi in considerazione la possibilità di praticare esercizi di respirazione profonda. Inspira lentamente attraverso il naso, mantieni la posizione per alcuni secondi ed espira attraverso la bocca. Può aiutare a calmare la mente e rilassare il corpo. Sembra semplice ma efficace. Lo proverò stasera e vedrò se mi aiuta a rilassarmi. Un'altra tecnica è il rilassamento muscolare progressivo. Inizia tendendo e poi rilasciando ogni gruppo muscolare del corpo, dalle dita dei piedi alla testa. Favorisce il rilassamento fisico e mentale. Ho già sentito parlare di questa tecnica, ma non l'ho mai provata. Ci proverò sicuramente stasera. Creare una routine della buonanotte può anche segnalare al corpo che è ora di rilassarsi. Prendi in considerazione attività come leggere un libro, ascoltare musica rilassante o fare un bagno caldo. Questi sono ottimi suggerimenti. Cercherò di incorporare alcune di queste attività nella mia routine notturna. Anche limitare l'esposizione agli schermi prima di andare a letto è fondamentale. La luce blu emessa dai dispositivi può disturbare il sonno. Prova invece a leggere un libro fisico. Mi assicurerò di tenere il telefono lontano dal letto. Leggere un libro sembra un modo migliore per rilassarsi. Anche creare un ambiente confortevole per dormire è importante. Assicurati che la tua camera da letto sia fresca, buia e silenziosa. Prendi in considerazione l'uso di tappi per le orecchie o di una mascherina per gli occhi, se necessario. Lo terrò a mente. Un ambiente favorevole al sonno può fare una grande differenza nella qualità del mio sonno. Evita di consumare caffeina o pasti pesanti prima di andare a letto. Se hai fame, opta per uno spuntino leggero e scegli una tisana al posto del caffè o delle bevande contenenti caffeina. Buon punto. Sarò consapevole del mio apporto di caffeina e opterò per opzioni più salutari prima di andare a letto. Infine, prova a praticare la consapevolezza o la meditazione prima di dormire. Può aiutare a calmare la mente e ad alleviare lo stress o le preoccupazioni persistenti. Ho sentito parlare molto bene della consapevolezza. Esplorerò alcune pratiche di meditazione guidata per aiutarmi a rilassarmi prima di andare a letto. Con queste tecniche di rilassamento, sarai in grado di rilassarti e preparare il tuo corpo per una notte di sonno riposante. Ti auguro notti tranquille. Grazie apprezzo il tuo utile consiglio. Non vedo l'ora di implementare queste tecniche e godermi una buona notte di sonno. Lezione 12. Social media e condivisione di foto Ciao Anna, hai visto le foto che ho pubblicato sui social media oggi? Ciao John. Sì, l'ho fatto. Le tue foto sono fantastiche. Dove sono state scattate? Grazie. Quelle foto sono state scattate durante la mia recente escursione in montagna. Lo scenario era mozzafiato. Wow, le montagne sono meravigliose. Adoro come hai catturato la bellezza naturale. Deve essere stata un'esperienza incredibile. Lo era davvero. Essere circondati dallo splendore della natura era rinfrescante e rigenerante. Sono lieto di averlo potuto condividere attraverso le mie foto. Le tue foto hanno sicuramente evocato un senso di tranquillità e avventura. Riuscivo quasi a sentire l'aria frizzante di montagna solo guardandole. Sono entusiasta che le foto abbiano trasmesso l'essenza dell'esperienza. Volevo trasportare persone in montagna, anche se solo per un momento. Missione compiuta. Le tue foto mi hanno ispirato a pianificare un'escursione tutta mia. Qualche consiglio per scattare foto eccezionali? Assolutamente. Quando si scattano foto all'aperto, prestare attenzione all'illuminazione. L'ora d'oro, il periodo subito dopo l'alba o prima del tramonto, fornisce una luce morbida e calda per splendide immagini. È un consiglio fantastico. Mi assicurerò di pianificare le mie sessioni fotografiche durante l'ora d'oro per esaltare la bellezza naturale. Inoltre, prova diverse angolazioni e prospettive per aggiungere profondità e interesse alle tue foto. Sperimenta con diverse composizioni e tecniche di inquadratura. Lo terrò a mente. È importante essere creativi e pensare fuori dagli schemi quando si catturano momenti memorabili. Non dimenticare di modificare le tue foto prima di condividerle. Semplici regolazioni come luminosità, contrasto e saturazione possono fare una differenza significativa. Sono lieto che tu abbia parlato di montaggio. Spesso trascuro questo passaggio. Mi assicurerò di ritoccare le mie foto prima di pubblicarle. Un altro consiglio è quello di coinvolgere il pubblico. Rispondi ai commenti e ai messaggi e mostra apprezzamento per il loro supporto. Crea un senso di connessione e comunità. Costruire connessioni è essenziale. Mi sforzerò di interagire con i miei follower e creare interazioni significative. Infine, ricorda di prestare attenzione alle impostazioni di privacy e sicurezza sulle piattaforme di social media. Modifica le impostazioni per controllare chi può vedere le tue foto e le tue informazioni personali. Questo è un promemoria importante. La protezione della nostra privacy online è fondamentale nell'era digitale di oggi. Mi assicurerò che le mie impostazioni sulla privacy siano attive. Seguendo questi suggerimenti, sarai in grado di acquisire e condividere le tue esperienze in modo efficace mantenendo una presenza online sicura e coinvolgente. Continua a condividere le tue avventure. Lezione 13. Alloggio e consigli finali. Ciao Anna. Sto cercando opzioni di alloggio per il nostro prossimo viaggio. Hai qualche consiglio? Ciao John. Certo, posso aiutare. Che tipo di alloggio stai cercando? Hotel, o steli o forse qualcosa di più unico? Sono aperto a diverse opzioni. Il comfort e la praticità sono importanti. Qualche suggerimento per trovare le migliori offerte? Un modo per trovare ottime offerte è confrontare i prezzi su diversi siti di prenotazione. Siti web come Booking.com e Airbnb offrono una vasta gamma di opzioni. Questa è una buona idea. Mi assicurerò di confrontare i prezzi e leggere le recensioni per prendere una decisione informata. Un'altra opzione è prendere in considerazione la possibilità di soggiornare in una pensione o in un bed and breakfast locale. Può fornire un'esperienza più autentica e la possibilità di interagire con la gente del posto. Soggiornare in una pensione sembra interessante. Sarebbe bello vivere in prima persona la cultura locale. Sicuramente. Inoltre, le pensioni offrono spesso un servizio personalizzato e consigli utili sulle attrazioni locali e sulle gemme nascoste. Questo è un grande vantaggio. Prenderò in considerazione la possibilità di prenotare una pensione per sfruttare al meglio il nostro viaggio. Infine, qualche altro consiglio per garantire un'esperienza di viaggio fluida e piacevole? Confezione leggera e intelligente. Porta solo capi di abbigliamento essenziali e versatili che possono essere mescolati e abbinati per diversi outfit. Questo è un consiglio prezioso. Viaggiare con una valigia più leggera può rendere il viaggio più comodo e senza problemi. Inoltre, assicurati di avere tutti i documenti di viaggio necessari in ordine, inclusi passaporti, visti ed eventuali vaccinazioni richieste. Assolutamente. È fondamentale ricontrollare tutta la documentazione con largo anticipo per evitare complicazioni dell'ultimo minuto. E non dimenticare di avere un piano di riserva. Possono sorgere situazioni impreviste, quindi è bene essere preparati e flessibili. Buon punto! Avere piani di emergenza può aiutarti a superare qualsiasi circostanza imprevista e ridurre al minimo lo stress. Infine, immergiti nella cultura locale e sii rispettoso degli usi e costumi dei luoghi che visiti. Non potrei essere più d'accordo. Abbracciare la cultura locale migliora l'esperienza di viaggio e favorisce interazioni positive con la gente del posto. Seguendo questi consigli, saremo ben preparati e pronti a goderci appieno il nostro viaggio. Grazie per il tuo aiuto. Lezione 14. Portare borse riutilizzabili Ciao Anna, volevo solo ricordarti che quando vai a fare la spesa, non dimenticare di portare sacchetti riutilizzabili per la spesa. Ciao John, grazie per il promemoria. L'uso di sacchetti riutilizzabili è un'abitudine importante per ridurre i rifiuti di plastica. Li tengo sempre a portata di mano. È bello sentirlo. Utilizzando sacchetti riutilizzabili, possiamo avere un impatto positivo sull'ambiente e ridurre al minimo la plastica monouso. Assolutamente. È un piccolo cambiamento che può avere un effetto significativo a lungo termine. Inoltre, le borse riutilizzabili sono più robuste e possono trasportare più oggetti. Questo è vero, sono resistenti e possono sopportare carichi più pesanti senza il rischio di strappi. Rende molto più comodo fare la spesa. E l'uso di sacchetti riutilizzabili non si applica solo alla spesa. Ogni volta che vado a comprare vestiti o altri articoli, porto anche le mie borse. È un'abitudine fantastica. Possiamo estendere l'uso di sacchetti riutilizzabili a tutte le nostre attività di acquisto, riducendo la necessità di sacchetti di plastica o carta. Esattamente. Si tratta di essere consapevoli dei nostri consumi e di fare scelte sostenibili. I sacchetti riutilizzabili sono un passaggio semplice ma di grande impatto. Un altro vantaggio è che alcuni negozi offrono incentivi per l'utilizzo di borse riutilizzabili, come sconti o punti fedeltà. È una situazione vantaggiosa per tutti. Questo è un ulteriore vantaggio. Risparmiare denaro rispettando l'ambiente sembra un ottimo affare. Terrò d'occhio questi incentivi. Inoltre, le borse riutilizzabili sono disponibili in varie dimensioni e design, permettendoti di esprimere il tuo stile personale pur essendo ecologiche. Questo mi piace. È un modo per aggiungere un tocco di personalità alla nostra routine di acquisto e mostrare il nostro impegno per la sostenibilità. Assolutamente. Incorporando borse riutilizzabili nella nostra vita quotidiana, possiamo ispirare anche altri ad adottare abitudini più rispettose dell'ambiente. Diffondere la consapevolezza e incoraggiare gli altri a fare un cambiamento positivo è importante. Insieme possiamo fare la differenza. Non c'è dubbio. Continuiamo a portare le nostre borse riutilizzabili e diamo l'esempio. Le nostre piccole azioni possono creare un grande impatto. Sono contenta che siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Continuiamo così e ispiriamo gli altri a unirsi a noi in questo viaggio ecologico. Sicuramente. Insieme possiamo contribuire a un futuro più sostenibile. Grazie per esserti preoccupato di portare borse riutilizzabili. Lezione 15. Fare la spesa Ciao Anna. Hai mai fatto acquisti in quel nuovo negozio di alimentari in città? Ciao John. Sì, ce l'ho. Hanno un'ottima selezione e prodotti di buona qualità. Questo è buono a sapersi. Sono sempre alla ricerca di un negozio con prodotti freschi e una varietà di opzioni. Assolutamente. Questo negozio offre anche una vasta gamma di frutta, verdura e prodotti biologici. È fantastico. Preferisco acquistare prodotti biologici ogni volta che è possibile. È importante dare priorità alla nostra salute e all'ambiente. Sono completamente d'accordo. Gli alimenti biologici sono privi di pesticidi nocivi e promuovono pratiche agricole sostenibili. Oltre ai prodotti biologici, hanno anche altri prodotti alimentari come prodotti lattiero-caseari e prodotti di base per la dispensa? Sì, lo fanno. Hanno una sezione lattiero-casearia ben fornita con una varietà di opzioni di latte, formaggio e yogurt. E nella loro dispensa c'è di tutto, dalla pasta alle spezie. Questo è comodo. È bello avere tutto in un unico posto invece di andare in più negozi. Sicuramente. Fa risparmiare tempo e rende più efficiente la spesa. A proposito, forniscono sacchetti di carta o di plastica alla cassa? No, in realtà incoraggiano i clienti a portare le proprie borse riutilizzabili. Fa parte del loro impegno per ridurre i rifiuti di plastica. È bello sentirlo. Ho cercato di essere più attento all'ambiente e l'uso di sacchetti riutilizzabili è un cambiamento piccolo ma di grande impatto. Assolutamente. Ogni piccolo passo è importante quando si tratta di proteggere il nostro pianeta. Mi assicurerò di portare le mie borse riutilizzabili la prossima volta che vado a fare la spesa lì. Grazie per la dritta. Siete i benvenuti. È importante diffondere la consapevolezza e incoraggiare pratiche sostenibili. Sicuramente. Facciamo la nostra parte per fare una differenza positiva. Grazie per l'informazione. Lezione 16. Rispetto della privacy. Ciao Anna. Hai mai pensato a quanto sia importante rispettare la privacy reciproca? Ciao John. Assolutamente. Il rispetto della privacy è fondamentale per mantenere relazioni sane e creare fiducia. Questo ha senso. Tutti meritano il proprio spazio e i propri confini personali. Esattamente. È essenziale chiedere consenso e rispetto quando qualcuno preferisce mantenere privati determinate informazioni o aspetti della propria vita. Sono completamente d'accordo. Dovremmo evitare di intrometterci nelle faccende personali di qualcuno senza il suo permesso. Sicuramente. Si tratta di essere premurosi e comprendere che ognuno ha diversi livelli di comfort quando si tratta di condividere i dati personali. Giusto. Rispettare la privacy significa anche non diffondere voci o pettegolezzi sugli altri. Assolutamente. Dovremmo astenerci dal discutere degli affari privati di qualcuno a meno che non condivida volontariamente tali informazioni. Penso che sia importante stabilire una comunicazione aperta e stabilire dei limiti con i nostri amici e i nostri cari riguardo a ciò che ci sentiamo a nostro agio nel condividere. Non potrei essere più d'accordo. Le relazioni sane si basano sulla fiducia e il rispetto della privacy ne è un aspetto fondamentale. Oltre alle questioni personali, la privacy si estende anche agli spazi digitali e alle interazioni online. Hai assolutamente ragione. È fondamentale proteggere la nostra privacy online prestando attenzione alle informazioni che condividiamo e garantendo la sicurezza dei nostri account online. Questo è un punto importante. Dovremmo essere consapevoli della nostra impronta digitale e adottare misure per salvaguardare i nostri dati personali. Sicuramente. La privacy è qualcosa che dovremmo valorizzare e proteggere, sia nella nostra vita fisica che virtuale. Assolutamente. Il rispetto reciproco della privacy crea un ambiente sicuro e confortevole per tutti. Concordato. Promuove la fiducia e rafforza le nostre relazioni con gli altri. Facciamo uno sforzo consapevole per rispettare la privacy nelle nostre interazioni e incoraggiamo gli altri a fare lo stesso. Sono d'accordo con te su questo. Il rispetto della privacy è un segno di maturità ed empatia. Ben detto. Continuiamo a dare priorità e a sostenere il valore della privacy nella nostra vita quotidiana. Lezione 17. Portare gioia ai bambini Ciao Anna. Hai qualche idea su come possiamo portare gioia ai nostri bambini? Ciao John. Assolutamente. Ci sono molti modi in cui possiamo creare felicità ed esperienze memorabili per i bambini. Questo è fantastico. Un'idea che mi viene in mente è organizzare una giornata all'insegna del divertimento al parco. Sembra fantastico. Possono giocare sulle altalene, scivolare giù dagli scivoli e fare un picnic insieme. Sì, attività all'aperto del genere fanno sempre sorridere. Un'altra idea è quella di trascorrere una serata al cinema con i loro film e snack preferiti. È un'ottima idea. Si godranno l'atmosfera accogliente e l'emozione di guardare film insieme. Un'altra idea potrebbe essere quella di organizzare una caccia al tesoro in giardino. Sarà un'attività divertente e coinvolgente per loro. Assolutamente. Adoreranno cercare tesori nascosti e risolvere indizi. Che ne dici di cuocere biscotti o cupcake con loro? È un ottimo modo per unire e creare deliziose prelibatezze insieme. È un'idea meravigliosa. Si godranno il processo di miscelazione degli ingredienti e decorazione dei prodotti da forno. Che ne dite di una serata di giochi in famiglia? Possiamo giocare a giochi da tavolo o a carte, creando una competizione amichevole e tante risate. Adoro quell'idea. È un'occasione perfetta per trascorrere del tempo di qualità insieme e creare ricordi duraturi. Possiamo anche pianificare una gita di un giorno in uno zoo o parco divertimenti nelle vicinanze. Saranno entusiasti di vedere gli animali o di godersi emozionanti giostre. Sembra incredibile. Esplorare nuovi posti e fare nuove esperienze è sempre emozionante per i bambini. E non dimentichiamo il potere della narrazione. Leggere loro i loro libri preferiti o creare le nostre storie può stimolare la loro immaginazione. Assolutamente. Le storie hanno la capacità di trasportare i bambini in mondi magici e di accendere la loro creatività. Infine, possiamo organizzare un piccolo progetto artistico in cui possono dipingere, disegnare o creare oggetti artigianali. Farà risplendere la loro creatività. Adoro quell'idea. I progetti artistici permettono loro di esprimersi e divertirsi con colori e materiali. Queste idee porteranno sicuramente gioia e creeranno bellissimi ricordi per i nostri bambini. Non potrei essere più d'accordo. Sforziamoci per portare felicità nelle loro vite e apprezzare questi momenti. Assolutamente. Vedere i loro sorrisi e le loro risate è la ricompensa più grande. Facciamo in modo che accada. Lezione 18. Rimanere flessibili nelle routine. Ciao Anna. Stavo pensando che sia importante rimanere flessibili anche nelle nostre routine. Cosa ne pensi? Ciao John. Assolutamente. Essere aperti agli aggiustamenti e ai cambiamenti nella nostra routine quotidiana può portare molti vantaggi. Questo è intelligente. Ci permette di adattarci a situazioni inaspettate e trovare nuove opportunità. Sicuramente. La flessibilità ci aiuta a mantenere uno stile di vita equilibrato e meno stressante. E' vero quando siamo troppo rigidi nella nostra routine, potremmo perdere esperienze entusiasmanti o una crescita personale. Assolutamente. Abbracciando la flessibilità, possiamo accogliere nuove idee e prospettive nella nostra vita. Questo è un ottimo punto. La flessibilità ci consente anche di rispondere meglio alle esigenze di chi ci circonda. Sì. Ci consente di essere più comprensivi e accomodanti nei confronti delle mutevoli circostanze dei nostri cari. È importante trovare un equilibrio tra struttura e flessibilità nelle nostre routine. Sono completamente d'accordo. Avere una struttura di base fornisce stabilità, mentre la flessibilità consente spontaneità e crescita. Essere aperti al cambiamento ci aiuta anche a sviluppare capacità di risoluzione dei problemi e adattabilità. Assolutamente. Favorisce la resilienza e la capacità di affrontare le sfide della vita. La flessibilità nelle routine può anche portare a una maggiore creatività e innovazione. Questo è vero. Rompere da una routine rigida può ispirare nuove idee e approcci. È importante ascoltare le nostre esigenze e adattare di conseguenza le nostre routine. Sì. La consapevolezza di sé gioca un ruolo cruciale nel riconoscere quando è necessario apportare modifiche. E non dimentichiamo l'importanza della cura di sé. Essere flessibili ci consente di dare priorità al nostro benessere. Assolutamente. È essenziale dedicare del tempo al relax, agli hobby e alle attività che ci diano gioia. La flessibilità nelle routine può aiutarci anche a trovare un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata. Giusto. Ci consente di dedicare il tempo al lavoro, alla famiglia e agli interessi personali in modo più efficace. Nel complesso, rimanere flessibili nelle nostre routine ci consente di condurre una vita più appagante e dinamica. Non potrei essere più d'accordo. Abbracciamo la flessibilità e accogliamo con favore le possibilità che offre. Assolutamente. Si tratta di trovare il giusto equilibrio ed essere aperti alla natura in continua evoluzione della vita. Sforziamoci di rimanere flessibili e adattabili, creando un viaggio più arricchente e vivace. Ben detto. Ecco una vita flessibile e appagante. Lezione 19. Costruire la fiducia. Ciao Anna. Un modo per promuovere la fiducia è incoraggiare un feedback aperto e onesto. Ciao John. Sono assolutamente d'accordo. Quando le persone si sentono ascoltate e apprezzate, la fiducia inizia a fiorire. Esattamente. È importante creare un ambiente in cui tutti si sentano a proprio agio nel condividere i propri pensieri. Ascoltando attivamente e considerando diverse prospettive, possiamo creare fiducia e rafforzare le relazioni. Non potrei essere più d'accordo. Un feedback costruttivo è fondamentale per la crescita personale e professionale. Ci aiuta a identificare le aree di miglioramento e incoraggia l'apprendimento e lo sviluppo continui. Giusto. Quando forniamo un feedback, è importante concentrarsi sul comportamento o sull'azione, piuttosto che sulla persona. Assolutamente. Separando il comportamento dall'individuo, promuoviamo una conversazione più positiva e produttiva. Inoltre, è essenziale essere specifici e fornire esempi quando si fornisce un feedback. Lo rende più fruibile. Un feedback specifico aiuta la persona a capire cosa ha fatto bene o le aree in cui può migliorare. Anche fornire un feedback in modo tempestivo è importante. Consente una riflessione immediata e una correzione della rotta. Sì, il feedback ritardato potrebbe non avere lo stesso impatto o la stessa rilevanza. La tempestività è fondamentale. Un altro aspetto della promozione della fiducia è essere aperti a ricevere feedback noi stessi. Questo è vero un feedback positivo dimostra che apprezziamo le prospettive altrui e ci impegniamo per la crescita. È importante ascoltare con attenzione senza diventare difensivi o sprezzanti nei confronti del feedback ricevuto. L'ascolto attivo dimostra rispetto e crea uno spazio sicuro per una comunicazione aperta e onesta. Esattamente. Quando ascoltiamo attivamente, dimostriamo che apprezziamo il contributo dell'altra persona e siamo disposti a imparare. Inoltre, riconoscere e apprezzare il feedback che riceviamo aiuta a creare fiducia e rapporti. Assolutamente. Esprimere gratitudine dimostra che apprezziamo lo sforzo e il coraggio necessari per fornire un feedback. La fiducia è la base per relazioni solide, sia a livello personale che professionale. Incoraggiando un feedback aperto e onesto, creiamo un ambiente favorevole alla fiducia e alla crescita. La fiducia consente la collaborazione, l'innovazione e la creazione di team forti. È un processo continuo che richiede impegno e impegno da parte di tutti i soggetti coinvolti. Attraverso una comunicazione aperta e la disponibilità a dare e ricevere feedback, possiamo rafforzare la fiducia e ottenere grandi risultati. Sono d'accordo costruire la fiducia richiede tempo, ma è un investimento utile in qualsiasi relazione o organizzazione. La fiducia ha il fondamento di connessioni significative e favorisce un senso di appartenenza e sostegno reciproco. Continuiamo a incoraggiare un feedback aperto e onesto nelle nostre interazioni e osserviamo la fiducia prosperare.